Musica Ciao Swifamily e bentornati in questo secondo appuntamento della giornata Oggi il 14 dicembre e io sono veramente super curioso di scoprire cosa si nasconde nella 14esima casellina del nostro calendario dell'avvento LOL Surprise Ieri sono rimasto un attimo senza parole perché non credevo di trovare un completamento cioè ovvero la parte inferiore una gonnellina che completava il costumino della nostra LOLdina Quindi oggi potrebbe succedere di tutto Perciò lucchetto alla mano, apriamo, cerchiamo la casellina numero 14 che non troverò mai perché io veramente faccio piuttosto Eccola qua, è proprio qua in basso, casellina 14, vediamo E nella casellina 14 ho trovato, e ragazzi io penso che qui ci sia un erroraccio Perché secondo me questo qua è il completamento della gonnellina che abbiamo trovato ieri Cioè è uguale, praticamente il toppettino che c'è dentro è uguale Quindi l'unica cosa che ci resta da fare è... Sfilata! Questo outfit è mio! Come hai detto? Vattene mi stai rubando la passerella! No, perché adesso sfido io al tuo posto! No! Via! Ed eccoci qua a Swir Family che la gonnellina che abbiamo trovato ieri ha trovato la sua compagna perfetta Quindi questo qua è l'abbinamento Non so a cosa c'entra il costumino, però chi lo sa magari domani troviamo la parte inferiore di questo outfit Poi non so, magari è una... il calendario è stato un po' bullone Vedremo, sarà tutto da vedere perché io veramente sono curioso fino al 24 di dicembre di cosa si nasconde all'interno E se questo outfit vi è piaciuto noi ci vediamo domani sempre qui alle 6 sul mio canale YouTube A scoprire la quindicesima casellina del calendario dell'avvento Un bacione a tutti e ciao!